Colpo di mercato in casa del Marina di Schiavonea, siamo con Matteo Monte, pare sia arrivato un giocatore di caratura internazionale. Sì, noi proprio oggi pomeriggio siamo andati con la nostra Vespa PX 125 del 1982, ci siamo recati all'Hotel Gallia a Milano, ci abbiamo messo poco, infatti siamo già di rientro. E' stato depositato questo contratto, Vincenzo Curia ha lasciato la musica, già c'è una crisi discografica in questi minuti, già si sta registrando, una crisi di vendita, fan club si stanno sciogliendo, è stato davvero qualcosa di molto importante. Ma il duo Nicola Cieli e Luigi Tavernese è riuscito a far deviare questo grande artista dalla musica al calcio, quindi naturalmente la 10 verrà data a Vincenzo Curia, ci sarà una manifestazione pubblica, ci sarà la firma sul contratto e molto probabilmente a sorpresa, naturalmente arriverà con l'elicottero, verrà calato con il paracaduto e sarà in campo alle 15.30 in questo derby contro il Villaggio Frassa. Un giocatore di assoluto spessore, che conosciamo tecnicamente e tatticamente, una stella di prima grandezza, sia del panorama musicale che calcistico, per i suoi trascorsi, Trabzonspor, River Plate, Oxer, anche altre squadre che magari tu mi puoi aiutare. La Sanremese. La Sanremese con soda, ha fatto coppia, quindi certamente un giocatore dal curriculum assolutamente interessante, idolo dei tifosi turchi, del Fenerbace, naturalmente, portò la squadra dalla Serie D alla Serie A in tre anni e quelli sono cinque campionati, quindi ha fatto miracoli, ha saltato anche la primina, così ho letto nella sua biografia. Si spostano gli equilibri del campionato qui? A questo punto sì, ma si spostano anche gli equilibri mediatici perché il Parma non è più la squadra dilettantistica con più abbonati e con Sky come partner ufficiale, perché purtroppo Tele Libera Cassano è stata surclassata dalle offerte, ci sono stati 7.000 abbonamenti in 8 minuti e Mardoc è venuto. A Schiavonea ha detto a Nicola Cieli e a Luigi Tavernisi voglio l'esclusiva di tutte le partite e quindi si è concluso questo contratto. Quindi accorrete in massa al derby, c'è un nuovo fuoriclasse in squadra. Sì, e anche c'è da dire un'ultima chicca di mercato dal punto di vista del merchandising, la Pantofola d'Oro, l'Adidas e l'Asics hanno perso questa battaglia, Vincenzo Curia avrà ai piedi le famose B-Cup. Vincenzo Curia al Marina di Schiavonea.